Il vostro incontro è la memoria e il futuro. Per scegliere il futuro dobbiamo conservare la memoria. E voi giustamente riunite non soltanto coloro che hanno visto con i loro occhi, ma i tanti familiari che hanno visto con gli occhi dei loro genitori, che quindi qualche volta hanno raccolto le testimonianze, i sentimenti, le paure, le speranze e aiutano a vedere. Ecco, credo che questa cura della memoria, che possiamo dire è affidata alle varie generazioni, è proprio il segreto per tutti quanti, non soltanto per l'ANED, non soltanto per chi è stato coinvolto, ma per tutti quanti per costruire il futuro. Perché per certi versi siamo tutti parenti di coloro che sono stati deportati, che sono stati travolti per motivi per l'ideologia, a causa dell'ideologia, sono stati travolti dal nazismo e dal fascismo. La vostra memoria è quella che ha permesso di comprendere la brutalità di quelle ideologie e quindi anche di scegliere i fondamenti sui quali è costruito il nostro paese. Conservate la memoria e aiutateci tutti in questo tempo così difficile in cui si riaffacciano sfide come quelle della guerra, una guerra ancora peggio nucleare, di tanti odio, di tanta violenza contro le persone, aiutateci a comprendere l'importanza e il rispetto dell'altro e nella coltivazione della memoria c'è la preparazione del futuro. Quindi buon lavoro e anche noi siamo parenti che vogliamo vedere con gli occhi di chi ha vissuto perché altri possono continuare a capire e ascoltare la violenza perché non si ripeta più.